doc parker in tempo per un brindisi brindisi ehi ma dove sono le braccia pazzesco ma come ha fatto rete neurale intracranica velocità di trasmissione sotto il nanosecondo maggiore dei segnali interni al cervello figuriamoci di una protesi esterna è fatta peter nessuno può toglierci il merito fantastico e la tua rete neurale è stata la vera svolta ma ma non è ancora pronta ci sono troppe incognite ma meraviglia su da un'occhiata grazie 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 grazie